Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Nel mondo incantato dei social media, l'amore tra l'ex concorrente del grande fratello, Manila Nazzaro, e il ballerino di, Ballando con le stelle, Stefano Radei, è diventato un racconto pubblico di felicità e determinazione. Nonostante gli attacchi degli hater, la coppia non fa che condividere la loro gioia su Instagram, mostrando al mondo la loro intesa e serenità. Dopo una burrasca sentimentale che ha coinvolto una relazione passata con Lorenzo Amoruso, Manila ha ritrovato la felicità accanto a Radei. Mentre alcuni critici sollevano domande sul suo passato, Manila affronta le critiche con fermezza, affermando che la sua pazienza è una virtù e che le sue decisioni sono ben ponderate. La coppia ha risposto alle critiche con dediche d'amore pubbliche, promettendosi amore eterno e supporto reciproco. Anche se alcuni continuano a mettere in dubbio la genuinità della loro relazione, i sostenitori di Manila e Stefano sono sempre più numerosi. Nel mondo incerto dei sentimenti, Manila Nazaro dimostra che l'amore autentico e la determinazione possono trionfare. Anche sotto i riflettori implacabili dei social media. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.